Siamo andati al 100% con la didattica a distanza a casa, questo perché 75-80-90-95 sinceramente ci sembrava quasi una complicazione inutile. Per i docenti e per gli studenti sembra sia più semplice così e abbiamo adottato questo, però con la possibilità di tornare in presenza per le prove di verifica. Infatti abbiamo una modularità di tre settimane, due settimane di didattica a distanza e una settimana di verifiche. Facendo venire il lunedì le prime, il martedì le seconde e così via. È una soluzione in divenire nel senso che si aspetta il termine di questo DPCM? Assolutamente sì, diciamo che è una navigazione a vista purtroppo, nella nebbia è più fitta. La valutazione da parte anche del comparto dei docenti su questa nuova misura come è stata valutata? No, ma è l'unanimità, diciamo, perché il collegio di docenti ha capito perfettamente la gravità della situazione e pensa che in questo modo si possa portare come scuola un contributo alla diminuzione del contagio, della trasmissione del virus. Diciamo che è il nostro contributo come scuola alla situazione generale che non è assolutamente semplice, anzi direi quasi drammatica nei numeri. Quattro materie quindi che le classi dalla prima alla quinta potranno svolgere in presenza, come mai si è deciso di affrontare queste quattro materie in presenza? Beh, semplicemente perché sono poi le materie che vengono anche richieste all'esame di Stato, per cui ci siamo riferiti a quelle, diciamo, in tutto il percorso scolastico queste quattro materie hanno sicuramente sempre la verifica scritta e quindi le abbiamo, come dire, determinate, fermate lì. E per quanto riguarda anche gli altri indirizzi del liceo Marconi, come si adeguono a questo nuovo DPCM? Beh, ovviamente il musicale in maniera diversa, avendo un rapporto uno a uno fra insegnante e studente nelle ore di strumento, è chiaro che queste vengono fatte in presenza, stessa cosa vale per l'attività di laboratorio del coreutico, cioè di danza, ma lì non dovremmo avere nessun tipo di problema perché abbiamo spazi ampi, quindi lì sicuramente ci siamo.